torno e poi io mi ricordo anche il video di sta canzone ma come fai a ricordarti il testo pure no vabbè ma guarda qua c'è la gente che è impazzita fa ma sapete che la stiamo cantando tutti siete consapevoli che tutta Italia si sta commuovendo in questo momento Stefano da Bologna no dai madonna questo è un testo fondamentale bellissimo ma certo io mi ricordo il video girato dalle parti di Maurizio Mauri erano da casa tua a Pavia sul Sicino lì sul fiume in trincea eh sì bravo proprio in trincea perché eravamo in guerra nel video abbiamo voluto rispettare anche il luogo dove si è svolta poi sì 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 guarda ottima canzone per il compleanno di mia nonna proprio casca fagiolo senti benvenuto benvenuto parliamo con te di sotto effetto podcast che è questo nuovo podcast che stai facendo esce la terza puntata domani 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 intanto come ti stai trovando in questa nuova veste di podcaster che è un po' il il lavoro del del presente no cioè bravissimo infatti bellissimo vabbè io un po' il mito della radio era per noi lì era il nostro web all'epoca negli anni settanta ottanta la radio quindi ho sempre avuto il mito del dj che proprio racconta un un immaginario e tutto un mondo quindi svilupparlo in un podcast è bello più che altro che ci siano tantissimi contenuti dell'hip hop degli anni 90 che sono super attuali oggi e quindi riuscire a dare questa chiave di lettura questa doppia chiave di lettura parli del passato ma sembra che stai parlando del presente quindi ne è nato tutto un mondo è un discorso che secondo me andrebbero proprio approfonditi al giorno d'oggi che si stanno rivelando interessanti per moltissimi ma secondo te perché poi gli argomenti che reggono la vita guarda io prima stavo dicendo dell'odissea che ha comunque gli stessi meccanismi l'invidia la gelosia l'avventura lo spirito della violenza ovviamente che sono gli stessi esattamente da 3000 anni probabilmente ancora di più è perché gli argomenti sono sempre quelli o ogni tanto ciclicamente tornano e stiamo un po entrando sai come quando c'erano gli anni gli anni 80 sono tornati un po di moda nei primi 2000 gli anni 90 adesso è arrivato il momento in cui stanno spopolando siamo un po tornati a quel giro lì quello e poi per assurdo i grandi filosofi secondo me hanno quella capacità di toccare proprio quella quell'angolino dell'animo umano che rimane per sempre e c'è da dire anche che secondo me l'uomo un po gli piace continuare a ricascare nei soliti sì 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 dar avanti nello stesso solco perché i grandi filosofi ci hanno veramente insegnato come si sta il mondo ma chi ha voglia di reggerli e invece di pop è proprio una filosofia quindi quello è il bello che l'hip hop a modo suo ha toccato dei punti e perché tanti danno una visione no non è la canzone d'amore che poi per quanto bella rimane un po fine a se stessa la maggior parte dei pezzi rap ti raccontavano comunque un mondo ti disegnavano una scena la prima puntata è sulla violenza giusto il fascino per la violenza infatti sì venendo dal rap non potevamo che iniziare così proprio perché se la musica racconta la società perché veramente dalla la musica che esce possiamo capire in che momento storico siamo e ce lo racconta a un livello più profondo delle parole il rap è il reporter della strada davvero racconta quello che succede agli angoli e qual è la la sensazione lo vediamo anche nei rapper di oggi e ci stanno davvero raccontando come i quartieri di oggi siano veramente bollenti per quello la prima puntata è dedicata un po al fascino di questa violenza che come dicevi tu ricordavi nelle serie tv è proprio di fronte a tutti ma nel cinema ovunque nei videogiochi perché c'è tutta questa violenza perché abbiamo bisogno di tutta questa violenza quando allora voi facevate ai tempi come sottotono credo io ho sempre detto che eravate troppo avanti per comunque per il periodo così avete avuto un grande successo ma per me ne avreste meritato ancora di più però avevate un lato un po differente da quel gangsta rap che c'era che c'era lì no avevate anche un lato un po più romantico sensuale no era un po quella roba lì infatti negli anni novanta chi provava a fare gangsta rap in italia a me sembrava un po chi stesse scimmiottando invece adesso mi sembra che le periferie al giorno d'oggi quella roba lì ci credo di più cioè anche nel rap italiano nella trap italiana quando raccontano di quel disagio lì mi sembra un po più credibile è così o è semplicemente che io prima non vedevo alcuni pezzi delle cose la cosa incredibile che noi negli anni novanta almeno eravamo innamorati come sonorità di quello che era tupac in wii quindi il gangsta rap anche se poi le tematiche invece erano veramente d'amore però la cosa assurda è che avevamo visto quello che sarebbe successo poi anche in italia nel futuro all'epoca come dicevi tu era un po assurdo incredibile parlare di gangsta rap o di dettagli tematiche davvero violente nei nostri quartieri invece oggi sono la realtà è quello che dispiace che comunque negli anni novanta l'hip hop ha sollevato queste questioni e sono passate un pochino inosservate e oggi siamo ricaduti in delle in dei quartieri che sono più appartengono appunto a una società se vuoi giovane adolescente come quella americana noi che abbiamo delle radici culturali un po più profonde in realtà è assurdo che ora ci ritroviamo a vivere oggi problematiche che invece loro affrontano già da una ventina d'anni perché poi la violenza è vero che c'è il fascino però non nasce mai per passione per la violenza quasi mai secondo me nasce sempre dal disagio no che era il disagio che c'era in america in alcuni quartieri adesso è un problema perché probabilmente i ragazzi di oggi stanno vivendo quel disagio lì quello che dicevo prima tu vedevi loro non parlandone con nostalgia però la si sparavano qui a malapena si bisticciava parole invece adesso mi sembra che ci sia un po questa violenza anche nei ragazzi più giovani siamo arrivati anche a questo però in realtà quello che raccontavamo noi negli anni novanta era un disagio dato più magari dalla provincia che non ti dà possibilità di esprimerli quella cosa si è amplificata oggi per cui oggi la violenza non è solo psicologico verbale ma diventa anche fisica è proprio la frustrazione di non potersi esprimere però a noi mancava uno skatepark quando eramo piccoli invece a loro manca veramente qualsiasi cosa per poter star bene quindi tutta quella violenza come racconto un po nel podcast è solo una particolare sensibilità che se viene urtata continuamente chiaramente poi porta a una reazione una reazione adesso poi ci racconti anche con chi ne parli in questo podcast perché hai un sacco di ospiti mettiamo un pezzo non so non l'abbiamo scelto noi non so se è casuale o è scelto apposta ci sono i Gorillaz con Bad Bunny il pezzo si chiama Tormenta la tua fidanzata Tormento Tormento e Tormenta Tormenta su Radio DJ ci scrive Ilaria dicendo salutami tanto Tormento lo adoro pezzi stupendi da sempre ha anche messo un like alle mie meringhe su Instagram e io ancora ne vado fiera con tutti non so se meringhe è una metafora per qualcosa o sono veramente le meringhe te la ricordo cosa ti è piaciuto di quelle meringhe no devo dire che io ho uno sviluppo comunque artistico della propria passione a me fa comunque impazzire che si tratti di quadri o meringhe a chi ci mette impegno e fa delle cose così artistiche a proposito di vantarsi di avere pezzi di Tormento a casa ormai anche un like è diventato un po' un pezzo della tua attenzione comunque così qualche tempo fa ero a casa dei miei genitori dove tengo parte della mia collezione di magliette da calcio e ho trovato una maglietta che mi avevi regalato tu nel 2000 2001 forse avevamo appena iniziato a fare viva rete a voi eravate venuti ospiti mi avevi lasciato una maglietta del Corinthians Corinthians come si chiama la scuola brasiliana Corinthians Corinthians autografata le collezioni ancora le magliette da calcio no c'era una valanga sì proprio perché in quel tempo in quel periodo le ho prese veramente tantissime però poi sono veramente scomodi su di dentro soprattutto quelle di quegli anni lì adesso hanno fatto tutti i materiali nuovi però queste classi sono inaffrontabili inaffrontabili tuo figlio che passioni ha rondo da sosa è super trapper beh sono contento che ballerino hip hop quindi si è staccato da questa vena che abbiamo io e esa mio fratello di rapper il papà e lo zio invece affrontare il lato più danzereccio ah lui balla sì sì come un pazzo perché adesso ci sono un sacco di sfumatori accessori e poi a quel mondo lì qualche un paio di settimane fa un weekend fa sono stato a un evento della nike dove tra l'altro suonava rondo da sosa ma l'attrazione principale dopo rondo da sosa c'era lui anna ok ma una grandissima attrazione era un contest di impennate in bicicletta cioè quelle cose che noi facevamo all'oratorio così adesso fa impazzire i ragazzini e fanno proprio il contest di trick in bicicletta c'erano dei ragazzi di 13 anni mega campioni tuo figlio in quel mondo lì no ma più che altro siamo cresciuti caspita con le bmx è bello vedere che oggi tutte quelle quelle che erano ritenute sottoculture adesso hanno seguito hanno seguito incredibile allora ci fermiamo per un po' di pubblicità ritorniamo tra poco parliamo delle altre tematiche che potete trovare nel podcast di tormento per esempio i soldi di castelli chiese villaggi brutali no niente di tutto questo credo si parla di soldi anche lì del di quel di quell'attrazione smodata per i soldi per il consumo lusso e dove lo si può trovare oggi sembra diventato il fine invece del mezzo è quello che fa molta paura e sembra e sembra facilissimo raggiungerlo invece no ma proprio per niente proprio per niente abbiamo iniziato con biggie e ci sembrava giusto iniziare la seconda metà con con tupac lo sai tu eri tu eri più da quel lato lì eri più da quel lato lì ma in italia mai esistita una non dico una faida ma geografica no sono talmente piccoli forse come paese che non c'era milano contro roma o sì in realtà erano proprio molto caratteri avevano caratteri molto differenti perché a bologna c'era bologna tantissimo l'inizio però invece milano era proprio articolo 31 comitato quindi era proprio rispetto anche a roma degli assalti frontali era proprio un altro modo completamente diverso di affrontare però si collaborava tanto io mi ricordo un disco bellissimo con i corveleno insieme bello mentre mentre andava questa canzone ti sentivo canticchiarla come facevi ai tempi a impararti i testi perché anche io anche io avevo questo problema ero grandissimo appassionato del genere e facevo un po come si faceva con le versioni di latino a scuola cioè dizionario di inglese cuffie cercavo di capire cosa diceva andavo a cercare la parola più simile poi cercavo di capire se mi veniva fuori una roba completamente senza senso non era quella se no probabilmente era quella perché non c'erano i testi su internet non c'era niente non parlavamo ancora neanche l'inglese noi proprio come infatti non è quello devo dire io ho imparato l'inglese infatti da tupac è stata una grande salvezza però quando andavi a tradurre poi ti trovavi vivo giù nel basso vicino a ma che cazzo vuol dire questa roba cosa significa dovevi capire anche un po' lo quello però in realtà poi ti accorgevi che stava raccontando quello che tu immaginavi sicuramente usavo uno slang delle parole che poi non ritornavano nella traduzione però dicevi però ti capisco bro il mondo è quello il mondo è quello allora dicevamo prima della pubblicità che avremmo parlato di quello che è un po' il tema della seconda puntata di del tuo podcast che è una serie di sei e domani domani esce la terza nella seconda si parla di soldi che sono l'altra grande tematica del del rap no proprio perché viene fatto principalmente da persone povere nel momento in cui poi si arricchiscono ci tengono a fartelo vedere no cioè c'è proprio tutta la cultura del del denaro bravissimo anche se Kanye West dice se metti le collane perché sei milionario quando sei miliardario poi non le metti tu non le metti più anche quello è un bel segnale che comunque anche quello è un po' pacchiana e passata come roba però assolutamente una dimostrazione ma non vale solo per la musica rap e oggi siamo tutti in balia dei soldi e il rap lo racconta perché come diciamo prima racconta quello che è quello il sentimento della strada e quindi si occupa e parla sempre di soldi ma perché tutta la società è davvero concentrata e purtroppo anche incentrata solamente sui soldi e parlavamo anche fuori onda che poi in realtà non è così diretto fare un momento in cui fai milioni di streaming una canzone non è direttamente proporzionale infatti c'è questa discrepanza che insomma frequentando un po' l'ambiente eccetera l'apparenza del successo e poi cosa ti rimane in pratica in mano che spesso è non dico proprio niente però normale no eppure sembri all'esterno perché fai milioni di streaming mamma mia questo sarà milionario mica tanto mica tanto e poi c'è i social che sono l'altra un po' l'altro specchietto per le allodole per per fare guadagni facili bravo perché tanti influencer fanno milioni di anche lì di di like e tutto però monetizzare quella cosa non è poi così semplice addirittura nel mio terzo nel terzo album dei sottotono già lo dicevo il successo nel mio lavoro uguale fame perché in realtà poi crescono anche le aspettative da parte della gente di come ti vede vestito di come ti devi presentare anche determinate fotografia ad un certo costo quindi inizia a diventare tutto molto più costoso man mano che fai successo quindi anche se li fai un po' di soldi non ti bastano mai per mantenere alto il livello a cui vorresti comunque proporre la tua e il tema dei soldi ovviamente era un tema che avevamo in testa anche noi da ragazzini però ti sembra cambiata ti sembra cambiato il rapporto con questo con questo miraggio nei ragazzi di adesso cioè mi sembra che sia proprio non so se la raccontano o ce la fanno veramente però si vale molto veloci anche su quel su quell'aspetto no cioè il fai imbrocchi la prima canzone e già stai parlando dei soldi l'unica differenza secondo me la fa come all'epoca e la faceva in realtà c'era già il rapper commerciale chi invece apparteneva alla cultura hip hop è solo il modo in cui poi tu vedi i soldi perché per noi i soldi a noi sono serviti per aprire un'etichetta discografica produrre nuovi gruppi iniziare a comprare gli strumenti musicali per fare uno studio quindi in realtà se fai i soldi per comprarti la collana e la macchina bella il marsupio di gucci anche perché poi non ritorna quel grande successo quindi li stai davvero buttando via mentre invece devo dire gli strumenti musicali almeno almeno li puoi rivendere bene e con chi ne avete parlato di queste cose perché c'è una lista di ospiti infinita per esempio di questo argomento chi è intervenuto regala delle bellissime per le gue nella seconda puntata tu lo sai bene perché ogni volta che viene sono sì sì frasi aforismi regala però anche lui dà una bella visione perché comunque dice per la vita che voglio che voglio avere faccio comunque fatica con la musica a mantenere quindi mi devo sbattere come un pazzo per mantenere e secondo me è bello che si dia anche questa visione ragazzi perché molto spesso sembra che i soldi si fanno facilmente in un attimo appena ti metti a fare musica invece non è così no e poi è anche vero che rimanendo dentro questo argomento specifico l'immaginario è fatto di cose che sono veramente costose no cioè rischi che per comprarti una cosa che ti metta sullo scaffale di quelli che ce l'hanno fatta hai bruciato un anno di per comprarti la macchina per fare il figo l'orologio per fare il figo così ti è sparito tutto quello che hai guadagnato con un disco magari anche perché guarda prima ascoltavo Tupac in California Love è veramente la musica non ha che fare con i soldi perché io ancora oggi quando sento la sua energia lui mi trasporta sulle sue frequenze e quindi la musica ha tutto questo significato non del fare i soldi ma alla capacità quando un artista ci piace è come se volessimo vibrare sulle sue frequenze la sua musica ha la capacità di portarci molto vicino a lui è un po quello che facciamo in palestra quando sentiamo una musica che ci pompa e ci rendiamo conto che ci vai dietro facciamo con molta meno fatica agli esercizi un'altra cosa che avevo letto su un'intervista non mi ricordo più se forse Justin Timberlake tanti anni fa che aveva detto che si stava appassionando ai colplay che erano poi in ascesa erano un gruppo ancora tutto sommato nuovo diceva mi piacciono tantissimo scrivono da paura e soprattutto quando da quando ho iniziato a sostituire il rap con i colplay prendo meno multe perché vado più lento in macchina perché comunque quella musica lì ti energizza e quindi esatto per seguire la vibra di Tupac probabilmente la più veloce che ascoltando The Scientist dei colplay allora visto che abbiamo parlato di colplay quindi siamo entrati un po' nel tema del canto mettiamo una canzone poi nel tuo podcast intervengono anche Giorgia, Tiziano Ferro e si parla di respirazione con lui bravo una salvezza bellissimo tema mettiamo Lazza, Cenere e poi ritorniamo con Tormento chi ti piace degli astri nascenti del beh devo dire tutti eh comunque li ho visti anche perché io ero uno dei primi artisti Taurus e quindi ho visto arrivare Sfera, Isir, Comi tutti li facevo addirittura da coach alle loro prime date e robe del genere e comunque anche di Lazza l'ho sempre saputo che sarebbe arrivato il suo momento prima o poi sicuramente un po' meno mi manca la conoscenza personale proprio di questi Rondo, Baby Gang che non vedo l'ora ci sia occasione perché fa sempre bene conoscere la persona dietro il personaggio davvero capisci un sacco di cose in più e non ti fermi a quelli che sono degli stereotipi che purtroppo i rappers di oggi secondo me subiscono troppo spesso a proposito di coaching di nuovi artisti quando eri nei sottotono, quando facevate i concerti nei coristi c'era Tiziano Ferro che poi ha fatto questa super carriera internazionale anche così che è venuto ospite nel tuo podcast per parlare dicevamo prima di respirazione bravo in tutte le puntate del podcast ci sono questi whatsappini che mi mandano vari amici a seconda degli argomenti che tratto e nella puntata dedicata alla respirazione ci sono Giorgia, Tiziano Ferro, Al Castellana, insomma delle grandi quindi sono i cantanti che devono per forza saperla usare bene io per esempio credo di fare un pasticcio, cioè io parlo male, respiro male, infatti mi va giù sempre la voce cioè è un disastro, cioè quando fai il cantante devi essere performante anche da questo punto di vista bravissimo devi fare ginnastica infatti noi ci ritroviamo a studiarlo perché il nostro corpo è il nostro strumento musicale quindi dobbiamo capire un po' a fondo come funziona per cantare ma in realtà è una cosa che dovrebbero insegnare davvero nelle scuole perché ti salva la vita, addirittura la puntata è dedicata alla respirazione ma si chiama la tua arma segreta perché oggi che viviamo tutti quanti stati di ansia, attacchi di panico è alla respirazione che bisogna tornare poi chiaramente anche al riposo e all'alimentazione però la respirazione è basilare e soprattutto è quella che ti dà un equilibrio non solo... perché la voce in realtà esprime un lato molto profondo di noi parla di noi a un livello più profondo di quanto le parole possano fare quindi sia il timbro ma anche il modo di comunicare perché alcuni sono più espressivi alcuni leader sono più espressivi perché riescono davvero attraverso la voce a trasportarti nel loro mondo e tutto parte dalla respirazione noi l'abbiamo studiata perché per cantare meglio però in realtà appunto è un metodo davvero per... il respiro è un veicolo per il messaggio che vuoi portare al corpo tu li fai gli esercizi? assolutamente, passo le ore tutti i giorni sì! è perché come ti dicevo è un veicolo per portare un messaggio al corpo se io ho una tensione sulle spalle attraverso il respiro porto lì faccio rilassare determinati muscoli ma quindi ovunque tu sei ti metti lì tranquillo e fai... sul treno, sull'autobus, a dieci minuti, un quarto d'ora in realtà se lo fai sempre poi è una cosa che puoi richiamare in qualsiasi momento però è un rapporto con il nostro corpo che abbiamo perso e quindi il corpo ogni tanto va in tilt, impazzisce cerca di mandarci dei messaggi che ci arrivano ci risultano scomposti eh certo! faccio un bigino veloce respiri profondi? no, cosa bisogna fare? no, in realtà puoi mandare il respiro tu dove vuoi se hai il ginocchio che ti fa male se hai una spalla che ti fa male e a quel respiro puoi collegare un messaggio puoi rilassare il sistema nervoso centrale puoi rilassare quel determinato muscolo siamo nel mondo yoga? siamo in prossimità di quel mondo lì? sicuramente fa parte della meditazione però ormai le cose sono talmente mescolate che ci sono corsi molto più occidentali oppure più orientali però il discorso davvero parte da quel mondo della meditazione noi nel canto abbiamo preso dei trucchetti sicuramente dallo yoga e dalla meditazione però diventa poi un'abitudine quotidiana che magari con poi se ci aggiungi la preghiera diventa una bomba perché lì diventa veramente il chiedi aiuto dall'alto si parla di un sacco di cose in sotto effetto podcast che è il podcast di Tormento sono sei puntate, le prime due sono uscite la terza esce domani pillola rossa o pillola blu è il titolo perché si parla di? mainstream o underground nella tua vita cosa scegli? vuoi fare i soldi a tutti i costi oppure ti piace portare avanti la guardia al di là del guadagno? qualche tempo fa quando avevo fatto il programma Lazarus con il nongio avevamo fatto tutto un viaggio in macchina da Portland fino a San Francisco e buona parte del viaggio per farci passare le ore facevamo questo giochino chiedendoci dei personaggi famosi italiani se erano indie o mainstream oppure chi è più indie secondo te fra Paolo Meneguzzi e Tiziano Ferro chi è più indie? e tutto il viaggio in macchina lo facevamo così perché è vero è una questione di scelte veramente parlo di musica ma poi lo puoi rapportare veramente nella vita a tutta la vita enorme complimenti mi metti sempre un sacco di gioia vederti sempre bellissimo anche per me in bocca al lupo per il podcast grazie mille per essere passato da noi grazie Radio DJ è il primo amore lo sai blue